via al processo per l'omicidio pansier richiesto il rito abbreviato per alessandrini la protesta dei trattori in 150 invadono le strade di pesaro no al fotovoltaico sui campi agricoli mobilitazione a villa fastigi francesca montereale è il primo questore donna della provincia di pesaro urbino pesaro capitale della cultura protagonista l'apertura della bit di milano buona serata bentornati al nostro telegiornale oggi lunedì 5 gennaio apriamo questa edizione parlando di cronaca giudiziaria perché oggi nel tribunale di pesaro è cominciato il processo per omicidio a carico di michael alessandrini a quasi un anno di distanza da quel 20 febbraio 2023 in cui fu ucciso il 27enne pierpaolo pansieri nella sua casa in piano centro storico a pesaro allora vediamo il servizio questa persona è accusata di 23 aggravanti quindi queste saranno e queste rimarranno perché io voglio giustizia per mio figlio ucciso con 23 coltellate a tradimento punto per me non c'è più niente da dire vi ringrazio che continuate a tenere alto la memoria di mio figlio e continuare a chiedere giustizia per mio figlio perché quello che merita perché mio figlio era una bravissima persona ed è morto per invidia e gelosia punto e io voglio del gastolo pieno sono nette e determinate le parole di laura mamma di pierpaolo pansieri ucciso con 23 coltellate il 20 febbraio di un anno fa nella sua casa di viagavelli in centro storico pesaro si chiede la pena massima per punire l'insensata crudeltà di michael alessandrini accusato dell'omicidio del 27enne pesarese è arrestato in romania dopo un paio di giorni di fuga internazionale susseguenti al delitto di sangue parole sternate all'uscita dell'udienza preliminare che oggi ha aperto il processo per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione dalla crudeltà e dai futili motivi oltre a mamma laura presente in tribunale papa pietro il fratello gianmarco assente dall'aula invece michael alessandrini rimasto nel carcere di villa fastigi per una scelta di linea difensiva dell'avvocato salvatore asole affiancato in questo processo dal legale di fama nazionale carlo taurbina difensori che hanno inoltrato al giudice la richiesta di rito abbreviato sottolineando come l'aggravante della premeditazione non sarebbe compatibile con la semi infermità mentale precedentemente dichiarata dal collegio di periti che ha esaminato lo stato psichico di alessandrini le tre contestazioni relative alle aggravanti e cioè la premeditazione la i futili motivi e la crudeltà sia sono circostanze le quali non trovano riscontri negli atti processuali soprattutto nella perizia disposta dal dal giudice delle indagini preliminari per cui si deve pronunciare sulla possibilità che esistano o non esistono gli elementi per la contestazione e se non esistono noi abbiamo fatto istanza di giudizio abbreviato che naturalmente laddove si affermasse che non esistono potrebbe essere svolto il processo col giudizio abbreviato si è riservato e ci farà avere la decisione notificandola con PEC che abbiamo sollevato è quella della compatibilità tra quello che vi dicevo un dato certo che è la semi infermità e l'eventuale qualora sussistente premeditazione per tre ore fuori dall'aula gli amici di panziere hanno atteso quanto emergesse dalla prima udienza mostrando foto di un sorridente Pierpaolo. La nostra vita ormai è cambiata per sempre e niente l'unica cosa che speriamo tutti è che Michael abbia la pena più severa possibile e confidiamo nei nostri avvocati tutta la giustizia perché tanto Pierpaolo non ce lo darà più nessuno indietro è passato quasi un anno e più passa il tempo è più è peggio per noi ti rendi conto veramente che non tornerà più e che un'altra persona ha deciso per la sua stessa vita. Si cerca di dare delle spiegazioni il problema è che è molto dura a trovarle è il classico tipo di cose che fino a quando non ti riguarda non ti succede sembra sempre è brutto dirlo ma sembra sempre che possa succedere agli altri o riguardare qualcuno di esterno in un altro posto del mondo e invece è stata dura per questo a trovare delle spiegazioni perché questa volta riguarda proprio proprio noi riguarda una persona speciale che era buona come il pane quindi le spiegazioni non siamo riusciti a trovarle sinceramente è molto dura. Ci aspettiamo giustizia giustizia che sia equa e che faccia il proprio corso noi abbiamo fiducia e continueremo ad averla fino al verdetto. Ed ora cambiamo argomento perché sono stati più di 150 i trattori che questa mattina si sono mossi in corteo dal casello autostradale di Pesaro verso strada Monte Feltro e l'Interquartieri esternando le proteste di una categoria di agricoltori che si ritiene al collasso al cospetto di normative europee ritenute non più sostenibili. Le proteste dei trattori sono arrivate anche a Pesaro. Oltre 150 hanno risposto all'appello che li ha radunati davanti al casello autostradale per poi dirigersi verso l'Interquartieri. Una protesta priva di sigle e simboli soltanto lavoratori del settore agricolo che chiedono un miglior trattamento economico. Purtroppo ad oggi i costi dei nostri prodotti non riescono più a coprire le spese di produzione in quanto noi ad esempio compriamo il grano da seme sui 150 euro al quintale 180 e andiamo a rivendere il nostro grano che produciamo a 20 euro al quintale. È chiaro che noi dentro non ci siamo più, è proprio una politica, il commercio e tutto quanto sta proprio uccidendo l'agricoltura e noi agricoltori. Qual è l'obiettivo che volete ottenere con queste proteste che oggi arrivano anche a Pesaro e dureranno per tutta la settimana? Rimetterci in condizioni di produrre, ridarci anche i contributi, le agevolazioni che ci stanno togliendo, come tra qualche anno non avremo più nemmeno l'agevolazione sul carburante e lì è palese che i prezzi che noi andremo a comprare a maggior prezzo il gasolio riandranno tutti sui consumatori perché la gran parte dei prezzi dell'aumento del gasolio verrà riversato sulla produzione nostra e aumenterà il prezzo dei nostri prodotti. Cosa volete ottenere e soprattutto cosa serve per risolvere le problematiche che avete sollevato? Serve prima di tutto meno burocrazia perché con la burocrazia non se ne può più. Prima di tutto la burocrazia ha un costo perché se non la facciamo noi la dobbiamo fare fare agli altri ed ha un costo. Secondo la PAC, la nuova riforma politica comunitaria è proprio inapplicabile, proprio per questa burocrazia. Si sono inventati quattro ecoschemi e terzo, un problema che ci affligge nel nostro settore sono i prezzi di produzione e i costi. Rispetto all'industria, al prodotto di fabbrica, voi avete maggiori restrizioni, maggiori attenzioni ancora da portare? Allora, il bello è questo che noi produttori europei abbiamo delle restrizioni, dei vincoli, dei controlli sanitari e tutto di più e i prodotti che vengono dall'estero sono proprio liberalizzati. Entra tutto di più, tutta mondezza e questa è una concorrenza isleale secondo me. Pensate che questa protesta possa cambiare effettivamente un minimo la situazione? Non lo so, noi ci facciamo sentire però non lo so se cambierà qualcosa, ci facciamo vedere però... In quale stato vivono in questo momento gli agricoltori italiani? Qual è la vostra situazione soprattutto? Facciamo fatica ad andare avanti, un po' come tutti gli agricoltori. Io ho un altro lavoro per tirare avanti la mia azienda e per tirare avanti la mia famiglia. Ho tre figli da mantenere, solo con l'azienda non ce la faccio. E' stato un weekend turbolento anche per un altro genere di protesta, quello dei campi agricoli che rischiano di essere convertiti in terreni in cui costruire maxi impianti fotovoltaici. Questa è la prospettiva a cui sembrano destinate alcune aree di villa fastigi. Vediamo. No al fotovoltaico sui terreni agricoli, i pannelli sui tetti, l'agricoltura nei campi. Slogan su striscioni a corredo della protesta di una comunità che vede minacciata la naturale destinazione a cultura dei campi in una riconversione in maxi impianti fotovoltaici ad oggi consentiti da un decreto legge del 2021. Alle tanti proposte d'acquisto per tali scopi stanno arrivando su diversi terreni di aree agricole di Pesero e dintorni. Su uno di questi, 10 ettari in strada e in sala di Villa Fastigi, si sta convergendo la preoccupazione di agricoltori, residenti e politici. Ad accendere l'attenzione sulla problematica, l'associazione ambientalista UPUPA. Questo non è l'unico terreno che a Villa Fastigi sarà oggetto di questo tipo di impianti, per il quale noi non siamo assolutamente contro le fonti rinnovabili, ma ovviamente vogliamo porre l'attenzione sulla problematica di fare impianti fotovoltaici su terreni agricoli produttivi, che a lungo andare potrebbe essere un problema molto importante. Infatti questo è un terreno di 10 ettari, ci sono tanti altri terreni nella zona dove sono state già richieste autorizzazioni per impianti della stessa tipologia. Quindi appunto siamo qui oggi per porre l'attenzione e per chiedere agli uffici di valutare quali sono anche gli impatti pesagistici. A tal fine porterò la prossima settimana in consiglio comunale una mozione chiedendo al sindaco di farsi parte di diligente per capire quali sono le reali problematiche che si potranno andare a riscontrare con tutti questi impianti in questa zona. Diciamo che qui c'è un impianto di erba medica che ormai è quasi arrivato alla fine, però abbiamo fatto fino all'anno scorso il fieno per le bestie, che noi lo portiamo su dove fanno il latte, il parmigiano reggiano. Quest'anno sarebbe ora di romperlo l'impianto, però essendo rinnovato il contratto non siamo stati potuti in grado di romperlo per poi metterci un cereale come il grano duro per fare la farina e pasta. Ti propongono delle cifre che un agricoltore non ci si potrebbe mai avvicinare ad acquistare un terreno a queste cifre. I pannelli fotovoltaici vanno fatti sopra i tetti e non nei terreni agricoli, che bisognerebbe lasciarli agli agricoltori per farli coltivare, come è sempre stato fatto da una vita. I pannelli vanno fatti sopra i tetti che possono portare molteplici benefici. Io ritengo che questi terreni debbano continuare ad essere agricoli perché ci sono tanti spazi, basti pensare a tutte le aree industriali, i tetti dei capannoni, i parcheggi, anche le stesse aree agricole, ma ovviamente sopra i fabbricati agricoli o sopra i piazzali, ma sicuramente no sopra i terreni agricoli. C'è una normativa purtroppo che è uscita nel 2021 che considera gli impianti fotovoltaici impianti di interesse pubblico. Si è voluto far sì che le autorizzazioni per realizzare gli impianti fotovoltaici siano molto molto semplificate. I comuni in molti casi non possono opporsi e per questo che il governo, faccio un appello al governo Meloni, perché ricordo che la nuova normativa del 2021, da metà del 2022 occorreva che il governo emanasse quelle che erano le linee guida che poi dovevano servire alle regioni per andare a individuare quelle che erano le aree idonee e non idonee. Nel governo, nella regione hanno fatto una normativa in questo senso. Noi, come gruppo del Partito Democratico, a marzo del 2023 abbiamo presentato una proposta di legge che andava ad anticipare quelle che erano le linee guida nazionali, proprio per riuscire a porre un freno rispetto a questo tipo di impianti. La regione Marche non ha voluto portare avanti questa legge che abbiamo fatto. Ha detto che occorre per forza aspettare la normativa nazionale. Noi non condividiamo questa scelta delle Marche perché un'altra regione, ad esempio di centro-destra come il Veneto, invece ha approvato una legge molto simile alla nostra, proprio per porre un limite all'utilizzo, all'installazione dei pannelli fotovoltaici sui treni agricoli. Manifestazioni di protesta che hanno chiamato subito ad un importante lavoro organizzativo di sicurezza il nuovo questore di Pesaro e Urbino. Si tratta di Francesca Montereali, primo questore donna nella storia del nostro territorio. La Montereali si è insediata a Pesaro il primo febbraio 2024. In questa intervista ascoltiamo le sue prime parole in merito a questo incarico. Primi giorni da nuovo questore della provincia di Pesaro e Urbino per Francesca Montereali, primo questore donna del nostro territorio, che a vicenda Raffaele Clemente è andato in pensione. Romana, sposata e madre di due figli, la Montereali arriva a Pesaro dopo un'esperienza ultra-trentenale fra questure commissariati di polizia e stradale, fra i territori di Trieste, Agrigento, Brescia, Ferrara e Verona. Arriva a Pesaro da Bolzano, dove il suo ultimo incarico è stato quello di dirigente del compartimento di polizia stradale del Trentino Alto Adice. Insediatasi a Pesaro lo scorso primo febbraio, per la Montereali sono primi giorni di conoscenza con un territorio che anche a livello di sicurezza sarà chiamato ad uno sforzo supplettivo nel 2024 di Pesaro, capitale della cultura. Questa è la capitale della cultura per l'anno 2024. Ho già ieri incontrato tutte le autorità del luogo, il prefetto, il sindaco, il presidente della provincia. Ho avuto modo già di partecipare al primo comitato per l'ordine alla sicurezza pubblica. Non sarà evidentemente l'unico perché in questo anno ricco di impegni abbiamo già avuto il presidente della Repubblica. Prevedo che altre personalità potranno nel corso dell'anno giungere. La questione che più mi ha colpito è veramente un grandissimo affiatamento che c'è fra tutte le forze di polizia, coordinate in maniera splendida dal prefetto. Quindi penso che potremo lavorare bene. Sarà faticoso ma darà grandi soddisfazioni. Per la Monte Reale inizia anche una nuova esperienza con una vecchia problematica comune ai suoi predecessori. Una questura di via Giordano Bruno sempre più decadente, una nuova questura individuata negli spazi della caserma del monte che è ancora stenta a vedere il via del cantiere. Sono appena arrivata e non ho una profonda conoscenza delle problematiche. So e mi rendo conto che una delle cose da affrontare il più presto possibile è vedere la possibilità di trovare una nuova sede se è possibile per la questura o rendere le sedi che già abbiamo nel stato migliore possibile per garantire un ambiente decoroso sia per il cittadino quando viene in contatto con noi sia per il personale che quotidianamente ci lavora. Al di là dell'accoglienza anche rispettare tutte le esigenze di sicurezza. Ed ora andiamo a raccontarvi di questo incidente che è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16 in zona Bottega di Vallefoglia dove i vigili del fuoco sono intervenuti con un autobotte per sedare il rogo di un'auto ibrida parcheggiata segnalata come completamente avvolta dalle fiamme. Alla base del rogo un sospetto cortocircuito interno al veicolo. Il comune di Cantiano ha stanziato 27 mila euro per fornire ristori alle attività di ristorazione e alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a causa degli otto mesi di chiusura della strada della Contessa riaperta lo scorso Natale. Il comune ha previsto contributi a fondo perduto differenziati a seconda della collocazione della sede operativa delle varie attività e dei relativi disagi arrecati dalla prolungata chiusura al traffico veicolare. Le nostre telecamere sono presenti in questi giorni a Milano dove da ieri è cominciata la BIT, ovvero una delle maggiori fiere turistiche nazionali in cui fin dal primo giorno ha avuto un ruolo da protagonista la nostra Pesaro, capitale della cultura 2024. Siamo contenti, siamo soddisfatti di questa impostazione che si è data quest'anno allo spazio della BIT della Regione Marche, una centralità di tanti temi ma naturalmente della capitale italiana della cultura tanto Rossini, delle performance, addirittura nel barbiere che abbiamo qui dietro che abbiamo trasferito dalla tradizione di Casa Rossini un piano superiore, questa terrazza che funziona tantissimo per incuriosire il pubblico affidata ai migliori chef marchisani ai chef stellati che propongono proposte rossiniane per l'appunto e in generale il racconto di una regione che si racconta naturalmente al plurale ma che individua nella capitale della cultura un'opportunità per tutti. Sindaco Matteo Ricci è venuto a Milano ovviamente per presenziare a Pesaro capitale per la cultura ma mi sembra anche per farsi la barba. Beh, quando incontri il barbiere di Civiglia non puoi farne a meno abbiamo davvero il top che ci può avere nel mondo e quindi approfitto per fare la barba che stamattina non ho fatto in tempo non riuscivo a svegliarmi e quindi diciamo uniamo l'utile e il dilettevole. Un grande appuntamento per la regione, per la città di Pesaro Pesaro capitale italiana della cultura e anche capitale della BIT. Sì, oggi è una giornata importante perché in questo bello stand della Regione Marche c'è uno spazio importante per la capitale della cultura del resto è un'opportunità per promuovere tutta la Regione e siamo molto contenti di essere qua. La BIT rimane comunque uno dei momenti durante l'anno più importanti nei quali presentare il nostro territorio e quest'anno ovviamente il nostro territorio ha come punta di diamante Pesaro capitale della cultura. C'è grande attesa per il turismo, tutti ci auguriamo un 2024 che da questo punto di vista non sia bisestile. Io penso che sarà una bella annata, di certo la promozione e la visibilità che abbiamo avuto fino ad oggi soltanto con la cerimonia inaugurale non l'avamo mai avuta in 50 anni e quindi è evidente che sicuramente sarà un anno di grande promozione e sono convinto che anche già da quest'anno si vedranno i primi risultati turistici. Questo è un appuntamento che cerchiamo sempre di presidiare con la massima attenzione, ovviamente quest'anno c'è un motivo in più sotto la grande casa di capitale della cultura è un'occasione per promuovere le innumerevoli attività a iniziare dal Rossini Opera Festival con questa anche divertente soluzione del barbiere che abbiamo già, sperimentiamo a casa Rossini che diverte e che qua è un'occasione appunto per rilanciare in maniera divertente un brand che quest'anno sarà sicuramente fra i più significativi di questo anno speciale. Anche con il Festival del Cinema abbiamo cercato di realizzare un festival capitale quindi un festival più lungo, abbiamo iniziato a raccontare dei contenuti che hanno già creato tanta attenzione, quindi la retrospettiva su Ficarra e Picone e fra poco poi inizieremo questo racconto in cui ogni settimana, ogni due settimane inizieremo a raccontare un pezzo di un festival che prometto non mancherà di tradire le attese. Quello che abbiamo registrato fino adesso è un grande entusiasmo non solo a livello territoriale della provincia di Pesaro Urbino ma anche regionale. Molti sindaci che erano stati invitati e presenti nella cerimonia hanno trasmesso un grande interesse a tutte le attività di Pesaro Capitale Italiano e della Cultura e si sono proposti per poter entrare in questo network che faremo e che stiamo facendo in verità con la Regione Marche attraverso l'ampliamento della comunicazione ai siti culturali di tutta la Regione attraverso la cardia di Pesaro 2024. Quindi oggi abbiamo anticipato questa politica di espansione ma soprattutto di inclusione delle politiche di Pesaro 2024 e le politiche che già la Regione Marche portava avanti. Quindi un'unica card per visitare in qualche maniera tutti i beni culturali delle Marche. Tanto perché c'è l'attrazione di Pesaro Capitale Italiano e della Cultura 2024 con le tante iniziative di promozione che il Comune anche con il Rossini Opera Festival e anche la ConfCommercio stanno facendo in Italia e nel mondo. E poi le Marche, ovviamente c'è questa campagna di comunicazione dedicata a Let's Marche in Italia e speriamo all'estero perché quello che ci manca nelle Marche sono i turisti stranieri e quindi c'è molta attesa per una stagione che dovrebbe superare in dati di presenza quella del 2023. Noi come ConfCommercio ovviamente con l'itinerario della bellezza facciamo la nostra parte partecipando a tante iniziative, organizzando tanti eventi. Abbiamo fatto la fiera di Utrecht in Olanda, adesso siamo a Milano, poi saremo a Napoli, saremo a Bergamo, il 5 aprile saremo a Roma. Quindi tante iniziative di promozione per una provincia straordinaria in un anno particolarmente importante come il 2024. E proprio in merito alla BIT, subito dopo questa edizione del nostro telegiornale, intorno alle 20.10, troverete uno speciale approfondimento, così come faremo anche per i prossimi giorni per raccontarvi insomma quello che sta accadendo nel padiglione della regione Marche. Ed ora cambiamo argomento, da Milano torniamo a Pesaro, è stata definitivamente archiviata la raccolta di rifiuti porta a porta nel centro storico. Da oggi, 5 febbraio, il conferimento dei rifiuti in tutta la ZDL sarà esclusivamente nelle 23 eco-isole informatizzate installate nell'ultimo mese. Cassonetti intelligenti ai quali si può accedere soltanto attraverso la carta smeraldo, già ritirata da circa il 90% delle utenze interessate. Novità in tema di rifiuti, novità anche in tema di parcheggi a pagamento, infatti Pesaro Parcheggi annuncia l'attivazione anche nella città dell'app Easy Park, che consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone, con funzionalità che interrompono o prolungano, in modo esatto, il pagamento della permanenza nel parcheggio. L'app è utilizzabile in 700 città italiane, comprese le vicine Fano, Urbino e Marotta. Lavori in corso alla Scuola Media Manzoni di Pesaro, in cui è partito un cantiere da 5 milioni e mezzo di euro di fondi PNRR per rigenerare dal punto di vista sismico l'Istituto Villa San Martino. Oggi c'è stato un sopralluogo del sindaco Matteo Ricci e dell'assessore al fare Riccardo Pozzi, per monitorare un intervento che si concluderà nel 2026 e che sarà compatibile con la presenza dei ragazzi all'interno dell'Istituto. Le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece alla seconda domenica di sfilate del Carnevale di Fano, che ieri ha fatto registrare il sold-out di pubblico con 15 mila persone presenti. A partecipare alla sfilata, 14 carri di prima e seconda categoria, anticipati da una grande scarpa rossa, escortata dai volontari di Alba Rossa, associazione fondata da ex appartenenti alle forze di polizia, con il fine di dare un aiuto concreto alle persone esposte a rischio di violenza di genere. E concludiamo questa edizione con il nostro consueto spazio dedicato alle squadre pesaresi. Che cosa hanno fatto in questo scorso fine settimana? Lo vediamo subito. Pesantissima settima sconfitta consecutiva per la VL, che cade 83-82 a Scafati, in un match che l'ha vista quasi sempre in vantaggio, raggiungendo anche un più 8 a 6 minuti dal termine. La squadra di Sacchetti compromette una buona gara con un ultimo parziale in cui patisce la rimonta dei campani, che vanno per la prima volta in vantaggio ad un minuto e mezzo dalla sirena, per poi prendersi l'intera posta. Una sconfitta urticante per la VL, ora immersi i mani e i piedi nel terzetto di coda, che sgomita in lotta a retrocessione. Nella Serie B di basket continua la corsa dell'Ital Service Loreto, che ad Ancona centra la seconda vittoria consecutiva, battendo in scioltezza la Stamura con un 87-56 in trasferta. Nella pallavolo bella vittoria della Megabox Vallefoglia, che sabato sera ha battuto una coreace a Busto Arsizio, dopo tre combattuti set in cui le Tigri la spuntano 25-17, 25-21, 25-22. Vittoria importante che mantiene la Megabox in corsa playoff. Si ferma invece dopo nove turni utili la striscia positiva della Vispesero, che nell'anticipo del venerdì sera è caduta 3-1 in casa contro il quotato Gubbio. E dire che la partita della Visse era messa benissimo con l'1-0 del solito Carson dopo due minuti e mezzo. Il Gubbio però reagisce e la ribalta nel giro di cinque minuti con Di Massimo e Spina. Nel secondo tempo è lo stesso Di Massimo a mettere a segno l'1-3 definitivo, che resta imbischiata nella bagarre ai limiti della zona play-out. Quindi l'appuntamento è alle 20.10, potrete rivedere questo approfondimento anche alle 22.10. E poi questa sera in prima serata, un appuntamento consueto del lunedì con la medicina, c'è capo Obiettivo Salute, questa sera parleremo dell'importanza della mammografia e lo faremo con Giovanni Consalvo Traina, che è medico specialista in radiologia e senologia. Vi aspettiamo alle 21.20. E subito dopo invece andiamo a raccontare quella che è stata la settimana della cultura che ha visto protagonista il comune di Petriano. Quindi questo bellissimo concerto di pianoforte è alle 21.40. E poi domani vi aspetto alla rassegna stampa, come sempre alle 7.20. Siamo in diretta, vi aspetto quindi, potete trovare anche in diretta sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro sito internet. E poi domani, martedì, torna una nuova puntata di Amministrando, questo programma che ci porta fino all'elezione 2024, che appunto saranno a giugno. E allora domani sera parleremo con Roberto Rossini, che è segretario generale della CGL di Pesaro Urbino e Andrea Baroni, che è direttore di Confindustria a Pesaro Urbino. Il consiglio è sempre quello di scaricare la nostra applicazione, è gratuita. Potete essere sempre in contatto con Rossini TV e con le notizie del vostro territorio. Intanto vi auguro una buona serata. Grazie.